sono in vaso da vincita ma la cosa è spettacolare ma su ruota unica una ruota c'è niente da fare stanno arrivando gli scordini a gogo vabbè questi ci ha messo pure bari ma non va niente 48 e 90 attenzione dalla triade 4 che nessuno ha e nessuno mai avrà questo è poco ma è sicuro dalla triade 4 monumento storico tutte giocate fatte nello stesso modo 76 e 90 ruota unica firenze conclusione 76 1 am betto 48 e un am betto sulla stessa da adesso 76 mi comasci paccato alle grado ci vediamo più tardi per il secondo piatto ciao